il professor Bachelet è venuto qui la mattina come tutte le mattine e verso le 10 è uscito andato andava in università per fare un'ora di lezione come spesso faceva durante un paio di volte alla settimana uno o due volte alla settimana e mi ricordo che uscendo disse vabbè ci rivediamo fra un pochino sapevo che poi sarebbe tornato nel giro di un di un'ora un'ora e mezza al massimo durante la lezione ripetutamente si apriva e si chiudeva la porta dell'aula in maniera incomprensibile rispetto alle altre volte e quando noi siamo usciti la facoltà era deserta mi arriva una telefonata dalla segretaria che mi disse dottore dice ho sentito una notizia adesso in questo momento alla radio che avrebbero sparato non so bene dice non so non ho capito bene al suo amico Bachelet Bachelet disse queste parole corsi immediatamente alla casa di Vittorio per incontrare la famiglia ma la moglie per sapere di chi si trattava vado sulle scale lo vedo morto non c'era nessuno c'era soltanto il corpo di questo povero uomo tutto sdraiato e tutti i bossoli in giro per per le scale ma tanti bossoli dopo quelli che mi sembrano nel mio ricordo interminabili minuti di silenzio e di solitudine perché io urlai e nessuno arrivò andai verso la stanza dei custodi non c'era nessuno dopo fui prelevata perché sentì e mi portarono naturalmente per proteggermi in qualche modo proteggermi soprattutto ormai dalla paura chiaramente ricordo che incontrammo un capitano dei carabinieri che disse signora dice non è opportuno che lei vada oltre a vedere dice perché dobbiamo difendere da una scena che non è che non è piacevole e naturalmente Miesi capì tornavo indietro lui era senza scorta perché lui l'ha voluto almeno di quello che so io può darsi pure che non sia così anche perché avevo 23 24 anni ma io quello che lui diceva io non voglio scorta perché se la devono prendere con me ci vado di mezzo io non ci vanno di mezzo gli altri che mi devono stare accanto ecco cioè lui questo era mi sacrifico io ma non devo sacrificare gli altri per me quello è stata una cosa che c'è non credo che nessun altro lo avrebbe fatto una cosa di questo genere per me è un eroe è un santo un terribile giorno quello del 12 febbraio 1980 terribile proprio perché questa cara persona era scomparso